I carabinieri hanno arrestato questa mattina a Palermo Salvatore Reina, il numero uno della mafia siciliana, lo vediamo in questa fotografia. Toto Reina era latitante da vent'anni e a lui sono stati addebitati i più grossi delitti di mafia degli ultimi anni. Ecco in queste fotografie naturalmente lo vediamo anche, sono foto che risalgono a qualche anno fa, naturalmente foto di Reina recenti non ci sono proprio perché di lui si era sempre sentito parlare ma non ci sono immagini di adesso. E sarebbe stato lui il mandante per esempio degli assassini del giudice Falcone e Borsellini.